ma io ragazzuoli sinceramente lo faccio vedere senza nessuna vergogna mica c'è un problema io ero in pigiama io ero in pigiama tra l'altro anche abbastanza carino dai simpatico come pigiama adesso diciamocelo chiaramente e mi ritrovo in un qualche modo costretto a fare così perché io sì un video l'avevo fatto per questa mattina ero già pronto ero già organizzato tanto che infatti non a caso appunto ero in pigiama dove facevo notare l'ennesima pescata fatta su x perché nel pomeriggio era uscita una dichiarazione ovviamente farlocca di paolo bonolis contro la juventus farlocca in quanto quelle dichiarazioni non le aveva mai rilasciate mezzo twitter juventino c'è puntualmente cascato con tutte le scarpe come spesso e volentieri cadeva però poi no abbiamo parlato un pochino del più e del meno di quella che era la probabile quanto meno fino a ieri pomeriggio perché anche in questa circostanza si parla tutti gli effetti di probabile formazione visto che la partita sarà comunque pur sempre alle 18.00 e da qui alle 18 tante cose possono cambiare e io sinceramente in questa circostanza in virtù dell'undici partente detto da giovanni albanese verso mezzanotte quindi magari non lo so dopo chi ha captato qual è stato l'undici provato da tiago motta prima della partenza direzione milano io spero che questa probabile ad onor del vero sia veramente tanto ma tanto poco probabile perché sinceramente qualora veramente alle 17 dovessi vedere quest'undici qui come undici di partenza sarei veramente perplesso che può essere magari la perplessità legittima di un ignorante di fronte alle decisioni di un fuoriclasse come tiago motta dove puntualmente ti andrà a smentire sul campo e veramente io spero che davvero qualora la formazione dovesse essere quella lì il tutto andrà a finire in quella maniera perché io sinceramente l'undici quantomeno rilasciato da giovanni albanese non lo capisco non lo capisco veramente proprio e se do credibilità a quello che ha postato giovanni è perché di solito quando si parla di probabili formazioni o di formazioni buttate lì la notte prima della partita evidentemente come detto prima è perché è arrivata una sorta di soffiata riguardo l'undici provato nella rifinitura e questo sinceramente non me lo spiego perché ok va bene il ritorno di di gregorio in porta e siamo a posto cambiaso che torna terzino dopo qualche partita d'ala e va bene ma se inizialmente si pensava che avremmo visto cabala sinistra e cambiaso a destra no no cambiaso a sinistra al suo fianco calulu e dici vabbè ci sta danilo e savona io so per carità che magari dopo juventus lazio c'è stato una sorta di screzio diciamo semplicemente così utilizziamo semplicemente questo termine tra gatti e tiago motta ma sinceramente non pensavo fino a questo punto perché non mi si può no in caso parlare di un federico gatti stanco nel momento in cui con lo stoccarda non ha giocato l'ultima partita l'ha fatta poco più di una settimana fa appunto quella contro la lazio e si parla di un giocatore che dal punto di vista fisico tutto sommato sta bene se magari potevi tenere in conto una sorta di turnover contro lo stoccarda per non rischiare anche semplicemente infortuni in vista della partita di oggi il tutto poteva avere senso veder gatti escluso dall'undici titolare pure per oggi a maggior ragione vedendo quella che è stata la prestazione di danilo contro lo stoccarda io ragazzi sinceramente non lo capisco ribadisco può essere il non capire di fronte ad una scelta di un genio come tiago motta e questa sera danilo giganteggi in lungo in largo lo spero perché qualora dovesse essere veramente questo l'undici lo spero proprio ma non lo capisco così come ad onor del vero io voglio bene a questo ragazzo è tipo letteralmente l'unico giocatore della prima squadra della juventus che mi segue con cui ogni tanto mi scambio due battute quant'altro però sinceramente anche proprio per tutelare quanto più possibile nicolo savona che già dopo le ultime partite è spesso e volentieri sul banco degli imputati quando è evidente che non sia lui il primo responsabile cavoli c'era la possibilità di mettere cambiaso a destra cabala sinistra che invece contro lo stoccarda fatto bene contro la lazio mvp quando cambiaso lo impiegavi da qualche altra parte lo lasciavi in panchina non te l'ha fatto mai completamente rimpiangere ha sempre fatto ottime belle prestazioni era lì servita su un piatto d'argento cambiaso gatti calulu e cabal no ok torni sempre al discorso del di prima della genialità quantomeno io ragazzuoli la voglio leggere così perché altrimenti sono problemi ma le sorprese non sono neanche finite qui che già queste potenzialmente potrebbero essere proprio ben più che sufficienti ma nonostante tutto non sono finite qui perché ormai in questa sorta di 4 1 4 1 il primo uno è composto da niccolo fagioli che vabbè ci posso stare ci posso fottere possiamo dire con sensao a destra locatelli e mckenny gli altri due tanto si parlava comunque di 4 2 3 1 dove sarebbero stati appunto locatelli fagioli mckenny e quindi qui nulla di particolarmente nuovo ovviamente dusan blauvi ce l'ha davanti e non può essere neanche altrimenti e a sinistra timoti wea quindi il dis in panchina magari tiago motta la sta un pochettino ragionando come importante arma da mettere a partiti in corso mentre nel frattempo vai a sfiancare gli esterni dell'inter da una parte con consensao dall'altra con wea e cambiaso va bene però soprattutto in queste partite qui per quanto anche il dis non stia vivendo un momento felicissimo anzi vedere wea titolare dal primo minuto con kenan ildis in panchina o a me sinceramente un minimo mi perplime poi certo sicuramente avrà preparato il piano gara in un determinato modo solo che sinceramente vedere o conferme o stravolgimenti totali wea a sinistra in quel di san siro contro l'inter mica niente e che se poi qualora la partita non dovesse andare proprio nel migliore dei modi si andrebbe inevitabilmente ad attirare tiago motta delle critiche che al netto di quello che è l'undici visto così poi vai a dire di no vai a dire che c'è il divieto di critica anzi io sinceramente questo undici ragazzuoli non lo capisco ribadisco può essere dovuto dalla mia ignoranza indubbiamente non lo voglio neanche mettere in dubbio facendo così il dis potrebbe essere una partita un'arma a partiti in corso anche come trequartista indubbiamente tanto copmainers non ce l'hai da grace luiz non ce l'hai l'altro è quindi assolutamente con bangula a sinistra boh si c'è nel senso perché no però nel senso questa io faccio veramente molta fatica a capirla e se è pretattica per andare a destabilizzare completamente in zaghi facendo uscire nella mezzanotte questa formazione e magari in zaghi non ci dorme su cercando di trovare soluzioni può essere un discorso con alle 17 la juventus che mette no la formazione ufficiale e la scritta vi abbiamo presi tutti per il culo la vera formazione questa perché altrimenti io non la capisco e mi limito solamente dire a questo lasciando ovviamente spazio al campo perché attenzione ci tengo anche a dire che non è che se non la capisco io automaticamente si tratta di una formazione sbagliata appunto magari non la capisco io e alla fine è stato quel colpo di genio che va ad incartare completamente l'inter e saremo qui alle 8 a parlare facendo i salti di gioia ci mancherebbe altro ed è quello che spero però sinceramente non la capisco quanto meno io devo dire semplicemente la verità voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve